e allora amici di youtube in compagnia della Burchiano Carre di un outfit ragazzi tutto da rivedere no no un outfit importante Burchi Pronostici settima giornata di serie B finalmente ci siamo levati da coglioni stai nazionali che dimoci la verità sì ci fa piacere poi guardarle ma a noi ci garba il calcio di provincia il calcio di città il calcio di tifoseria di passione di racconto paesano no ti racconto poi sui social più nello specifico le realtà che noi ci garbano da vive sul campo quotidianamente quella la serie B è sicuramente diciamo un campionato che rispetta e rispecchia tutto questo quindi tantissimi like iscrivetevi tutti al canale di Burchiano lo youtuber Maremmano di vitale importanza link qua sotto in descrizione ragazzi link dove Burchi è affiliato il sito con cui Burchi è affiliato dove gioco le schedine 100% del bonus fino a 122 euro prendete 122 euro sul primo deposito più tantissimi bonus che vanno anche in cadenza settimanale ragazzi passateci qua sotto link in descrizione link anche nei commenti ve lo lascio dappertutto andate a vederlo ma non per fare un favore a me è chiaro che mi supportate se ci andate perché sono affiliato con questo sito ma avete sicuramente un palinzesto ampissimo avete tante tante varietà di giocate il sito è fatto benissimo ragazzi e prendete dei bonus molto molto validi quindi passateci qua sotto e andate a registrarvi con il link qua sotto in descrizione allora partiamo dal match dello stadio San Vito che apre la giornata e apre la nostra multipla Cosenza contro ragazzi Como il Cosenza è reduce dal punto conquistato contro il Sud Tirol il Como è reduce anche lui da un pareggio conquistato contro la Spalla in maniera rotambolesca va detto che comunque la formazione bianco blu si è vista in crescita ma ancora non ha trovato la vittoria dall'altra parte c'è un Cosenza che comunque sta facendo sicuramente molto molto bene Dionigi ha trasmesso la squadra concentrazione grinta battendo colpo su colpo con tutti gli avversari e fanno una fase difensiva per me ragazzi attenta e quasi impeccabile su certi punti di vista davanti un po' però il Cosenza va in difficoltà perché comunque tira poco vede poco la porta e va un diamante per quanto riguarda un discorso offensivo comunque otto punti finora è sicuramente un buon percorso per quanto riguarda appunto il Como c'è stato questo avvicendamento in panchina con Gattuso che ha avuto delle problematiche di salute delle problematiche personali quindi facciamo sicuramente un augurio in generale per quanto riguarda appunto l'ex allenatore del Como che tra l'altro li ha portati in serie B arriva Longo Longo dovrà sicuramente risistemare la fase difensiva chiedendo alla squadra più concentrazione più spirito di sacrificio di compattezza e di attenzione perché poi il Como a tratti ha fatto anche degli errori veramente un po' ragazzi da non squadra esperta quale è e dovrà tentare di sistemare questi fattori qui ma comunque la squadra per me da centrocampo in su è una squadra veramente costruita molto molto bene anche davanti hanno tante soluzioni e per me se riusciranno a sistemare queste situazioni risaliranno la classifica quindi il mio pronostico è x2 per cosenza Como e poi ragazzi dopo andremo a fare le singole perché vi dico questo lo vedrete dopo per quanto riguarda SPAL Genoa avventurato contro Blessing una SPAL che comunque ha trovato una grande identità ospita un Genoa quinto che deve trovare la definitiva consacrazione di fatto perché comunque si a Sprazi è andato bene ha affrontato anche teste di serie importanti però deve trovare la definitiva consacrazione anche dal punto di vista di gioco ci si aspetta anche più unità dal punto di vista dei reparti con Aramu che è chiamato sicuramente alle gare centrocampo e attacco a dare più fluidità di manovra contro però una SPAL che con Venturato è sicuramente una squadra che è molto 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 in crescita una squadra che sta facendo bene e sicuramente non daranno vita facile al Genoa però io a Ferrara vedo un x2 quindi Genoa favorito SPAL Genoa x2 Modena Regina Calabresi primi con miglior attacco e miglior difesa vanno in trasferta in Emilia contro i Canarini se si guarda le statistiche 5 vittorie una sconfitta la Regina 5 sconfitte una vittoria il Modena attenzione perché però Tesser è un allenatore preparato un allenatore valido un allenatore che avrà studiato nei minimi dettagli la Regina per me ragazzi qui ci sarà una grossa sorpresa in questo match le due compagini non hanno mai pareggiato occhio veramente al pari io dico Modena Regina 1x vedo i Canarini che troveranno altri punti in casa per me questa partita potrebbe veramente regalare delle sorprese poi per quanto riguarda Cittadella Ternana due squadre che per ora stanno facendo un buon percorso i padroni di casa hanno raccolto al tombolato 7 degli 8 punti totali in campionato quindi il fattore casa il fattore tombolato ragazzi per il Cittadella è sicuramente un fattore importante bisogna dire che hanno segnato 6 reti e le hanno subite 4 in casa ma questo dato è stato sicuramente influenzato dal match terminato per 4 a 3 nella prima giornata contro il Pisa la Ternana è una delle squadre che fuori casa fa più fatica e diciamo comunque fatica di più ecco in generale rispetto che davanti al proprio pubblico nelle mura amiche ma se si è in giornata può fare molto bene vedo comunque una gara equilibrata tra le due squadre ma il mio pronostico è x2 più over 1,5 Palermo Sud Tirol grandi risultati per gli altotesini ragazzi da quando è arrivato Bisoli veramente la cura Bisoli ha portato dei risultati anche per certi versi secondo me io non me l'aspettavo assolutamente io seguo questa realtà veramente molto molto con stupore ma anche con tanta ammirazione per quello che sta facendo il Sud Tirol mi piace veramente molto questa realtà piccola però questa realtà che è una piccola realtà che però è grande è grande per tanti aspetti perché comunque sta facendo sicuramente un per ora un percorso ottimo i rosa nero però devono assolutamente ritrovare la vittoria devono ritrovare punti Corini avrà sicuramente lavorato i giocatori avranno conosciuto il tecnico il tecnico avrà conosciuto i giocatori avranno avuto tempo per amalgamarsi tra l'altro hanno anche visitato le infrastrutture del Manchester City capendo veramente quanto è grande il progetto che hanno attorno io vedo veramente i rosa nero che devono vincere il mio pronostico è uno secco Cagliari Venezia due squadre che vengono dalla Serie A da cui è illecito aspettarsi di più in questo momento però il Cagliari deve dare di più deve dare di più deve fare di più i padroni di casa hanno tutte le carte in regola per fare meglio c'è veramente ancora ancora per una volta per il terzo anno consecutivo un clima di sconforto un clima veramente di anche rabbia attorno alla squadra che non riesce a reagire tante situazioni che non stanno piacendo ai tifosi del Cagliari e io le capisco però per me ci sono tutte le carte in regola e le potenzialità per venirne fuori il Venezia si è visto qualcosina in più nelle ultime partite però va detto anche che bisogna andare a dire che contro il Pisa il Pisa in quel momento lì era la squadra che era diciamo più in difficoltà un Venezia che tentenna e me non mi convince io il pronostico Cagliari Venezia dico 1x ragazzi poi per quanto riguarda Bari Brescia due rivelazioni assolute che per me non sono tanto discostanti come filosofia come pensiero tattico perché comunque sia Mignani che ragazzi appunto Clotet stanno facendo un lavoro importante un lavoro mirato studio importante dedizione attenzione durante la gara per me due squadre sono queste che pur non esprimendo un gran calcio sanno quando farti male sono due squadre mature io ragazzi non escludo l'X in questa partita non escludo veramente l'X ma consiglio l'under 3 e mezzo per i più ambiziosi posso dire anche X più under 3 e mezzo Parma Frosinone sarà la prova di maturità per tutte e due le squadre bisognerà capire ecco come la approcceranno il Frosinone fuori casa fatica di più il Parma è un po' una mina vagante una squadra che veramente va a sprazzi va a giornate io raga vi dico la verità qui vedo una partita bella una partita spumeggiante la partita aperta due squadre che segnano ma concedono dico gol poi ora le due singole di giornata che poi saranno tre perché tre perché la prima singola vi dico ragazzi mettete la vittoria del Como fuori casa secca perché potrebbe sta che arriva la prima vittoria veramente per me ci potrebbe sta anche di corto muso ma potrebbe che il Como vince Perugia Pisa di a settesima contro ventesima peggio attacco contro peggio difesa due situazioni complicatissime due squadre che hanno cambiato allenatori due squadre che hanno il morale sotto i tacchi due compagini che in questo momento stanno facendo molto molto fatica ambienti difficili prevedo tanti errori e partita chiusa dico under 3 e mezzo non escludo l'X quindi ragazzi si può giocare anche a Zardana singola X più under 3 e mezzo Benevento Ascoli altra singola la strega ha cambiato in panchina come sappiamo tutti è arrivato Cannavaro però ragazzi se da una parte sicuramente è sicuramente porta come abbiamo detto anche noi tanto entusiasmo tanta voglia di fare porta sicuramente in città ecco positività che poi sta un po' mancando si stava un po' affievolendo l'ambiente Benevento con una situazione un po' difficile veramente con un sistema di gioco comunque un po' che veramente ragà non trasmetteva entusiasmo un po' appiattita la piazza entusiasmo ritrovato con l'arrivo di Cannavaro però in Europa non ha esperienza quindi è un po' un punto interrogativo come farà giocare la squadra da che i giocatori ripartirà avranno ritrovato la forma diversi giocatori questo non si sa ragazzi è ancora non si può sapere ci vuole tempo ci vuole di capire anche no però sicuramente è bello scoprire l'entusiasmo e l'adrenalina la positività ci so questo è sicuramente potrebbe essere un fattore che trascinerà il Benevento Benevento che arriva da due sconfitte come arriva Lascoli Lascoli arriva da due sconfitte una squadra che a tratti esprime anche ragazzi ecco diciamo uno stupore perché comunque ecco una squadra che magari non ti fa una gran partita però poi si accende e vive un po' di lampi anche Lascoli sarà sicuramente una partita curiosa tra Cannavaro e Bucchi comunque io vedo comunque onestamente un match equilibrato per me potrà essere deciso nel secondo tempo anche da qualche giocatore perché no che sarà subentrato se Cannavaro capirà questa situazione metterà bene la squadra in campo e ragazzi magari ecco lavorerà anche da un punto di vista di capire che potrebbe essere la partita decisa nel secondo tempo anche da un giocatore subentrato leggerà bene la gara io vi dico la verità dico 1x più over 1 e mezzo da giocare in singola quindi le singole la vittoria del del Como fuori casa ragazzi poi per quanto riguarda appunto la partita tra Benevento e Ascoli 1x più over 1 e mezzo e la partita tra Perugia e Pisa under 3 e mezzo più x queste sono le singole poi la multipla quella che vi ho detto mi raccomando tantissimi like iscrivetevi tutti al canale di Burchiano lo youtuber mare in mano di vitale importanza come di vitale importanza giocate la vostra schedina nel link ragazzi che trovate qua sotto registratevi pigliate il bonus e giocate tanto a voi giocate di qua o giocate di là non vi cambia una bella sega se giocate di qua nel link che vi passo io è sicuramente un modo per supportarmi ma poi il sito è fatto veramente veramente bene sono anche curioso di sapere la vostra su questo studio pronostici serie b settima giornata io vi saluto e vi ringrazio anche di questa giornata di serie b per ora per questi pronostici sono sazio come dico sempre ciao a tutti ciao regà